La Telegia ha proposto diversi argomenti che sono andati in onda nel corso del telegiornale. Per quale motivo, Madiangela, hai proposto argomenti così importanti? Sono argomenti che fanno parte di chiunque. Noi facciamo parte di una società e questa società ha bisogno di una relazione, di comunicazione tra le varie persone. Quando questa non esiste c'è necessità di crearla. Senza rispetto non si va da nessuna parte, senza comunicazione il rapporto non si crea. Sono le basi per un buon rapporto tra le persone, le basi perché ci sia, oltre che il rispetto alla collaborazione, la voglia di costruire qualcosa insieme. Cosa si può costruire secondo te anche attraverso i servizi televisivi? Tutto, ogni cosa è possibile quando c'è comunicazione, quando c'è la volontà da tutte le parti di creare qualcosa. Si può creare quel mondo a cui tutti auspichiamo, che tutti speriamo che possa esistere. Quindi tutti quanti insieme con questa volontà possiamo fare qualcosa. Quindi parliamo di una televisione abbastanza particolare, che oltre a fornire informazioni e notizie utili, dà anche delle occasioni di riflessione profonda fra persone di età diverse. Quindi c'è uno scambio di idee anche tra generazioni diverse. Sì, è necessario. Troppo spesso si pensa che gli anziani sono anziani, quindi non sono in grado di... I bambini sono bambini, quindi non sono in grado di... Non funziona così. Noi sappiamo che ogni persona, a qualunque fascia d'età appartenga, a qualunque ceto sociale appartenga, ha tanto da dire. Quindi dobbiamo semplicemente parlare e cercare di affrontare il discorso dalla loro prospettiva, dalla prospettiva degli altri. Solo così si può arrivare a qualcosa. Io ti ringrazio, Mariangela. Sembrano delle cose... Poche cose, ma sono dei concetti profondi che vanno ampliati e vanno ripresi e continuamente riproposti. Grazie ancora. Grazie a voi. Speriamo.